Un caro saluto. Ho trovato questo video della presentazione di Elon Musk della navicella spaziale SpaceX di qualche giorno fa e desidero fare alcune considerazioni. Trovate il link del video originale nella descrizione per confrontare gli spezzoni che ho tradotto. Attraverso il fornito indice alfabetico avete a disposizione diverse voci su Elon Musk se vi va di vedere altri video. Questo video è abbastanza lungo e ho cercato di condensare ciò che il signor Elon dice ai suoi dipendenti dello SpaceX riguardo le false imprese. Secondo il mio punto di vista, meglio di ascolto, sembra manchi di intelletto e gironzoli nel discorso con stupide idee, addirittura il video originale in più punti è tagliuzzato dove fa delle pause inutili e i suoi interlocutori o sono come lui o pensano non sia un buon comunicatore però credono che sia un genio. No, in realtà è uno sciocco, sembra veramente stupido quando si limita a blaterare delle idee stupide, a volte sembra esca dalla tangente perché non è assolutamente una persona intelligente. Le persone invece credono lo sia solo perché è l'uomo di facciata al soldo dell'elite, ma è un attore, un pessimo attore. Ascoltiamolo dal minuto 0931. Ora questi numeri sembreranno veramente piccoli in futuro per poter costruire una città su Marte. abbiamo bisogno all'incirca di un milione di tonnellate per la distanza dell'orbita. Quindi forse un po' di più, giusto un po' di più, ma in un certo senso per ottenere le cose nel giusto ordine di grandezza, non posso dare il numero esatto, cerco di avere il giusto ordine di grandezza, penso che sia circa un milione di tonnellate rispetto all'orbita che richiederà circa 200.000 tonnellate sulla superficie di Marte, più o meno è 20% dall'orbita della Terra per arrivare su Marte. I numeri di cui abbiamo avuto sono di almeno un milione di tonnellate di carico utile sulla superficie di Marte per essere autosufficienti. Quella soglia di autosostenimento è in realtà una soglia molto difficile da raggiungere perché se perdi una piccola cosa, alla fine Marte morirà. Quindi devi essere in grado non solo di costruire ad esempio chip per computer, ma devi essere in grado di costruire fabbriche di chip per computer. Perché se non puoi costruire fabbriche di chip per computer, la fabbrica che costruisci prima o poi sequesterà e non avrai più chip. Il gioco è fatto. È come un lungo viaggio per mare dove se ti manca solo la vitamina C, sì, navigherai per un po' ma poi, sai, ti cadranno i denti e morirai. Questo era il problema ai vecchi tempi. Comunque è una soglia piuttosto dura e come Marte, Marte è il pianeta prefissato e voi avete bisogno di lavoro, quindi non è che dovete semplicemente correre in giro all'aperto e come pescare o vivere dei prodotti della Terra. Sapete, non si vive con i prodotti della Terra su Marte, quindi c'è veramente un sacco di lavoro da fare. Quindi il Dragon, l'incredibile quantità di progressi col Dragon e l'incredibile lista di successi, quindi a partire dallo scorso anno le flotte Dragon sono in orbita con lo SpaceX. Ora saltello qua e là col video. Non sono uno che largisse false logi. Abbiamo inviato 42 uomini in orbita, per essere precisi. Lo spazio è relativamente facile, ma l'orbita è molto difficile. Quindi abbiamo portato in orbita 42 uomini in ritorno. E devo dire, sì, una cosa che desidero è riportare indietro tutti sani e salvi. È come se qualcuno dicesse qual è l'unica cosa che desideri, vorrei riportare indietro questi astronauti sani e salvi. Questa è la prima cosa. Un desiderio che voglio avere. Quest'anno faremo la nostra prima passeggiata nello spazio e quindi dobbiamo riprogettare la tuta in modo che si possa facilmente muoversi al suo interno e non solo saltar fuori, perché se gonfi semplicemente la tuta sai di essere praticamente, sai, è un po' come uno di quei palloncini ad una festa, sai, quindi è piuttosto difficile riuscire a essere ancora mobile con una tuta gonfia e avere le giunture che si muovono e altro, cose del genere. Poi dobbiamo evacuare l'intera navicella spaziale in modo che tutti, anche quelli che non partecipano alla passeggiata spaziale sono ancora nel vuoto, quindi è molto importante che funzioni. E se c'è un piccolo forellino nella tuta qualcosa che scivola via, ma penso che faremo molti test. Quindi bisogna essere certi, Elon, che non ci sia alcun piccolo foro nella tuta. Se non avete ancora compreso sta facendo capire quanto è difficoltoso, o meglio, quanto è enorme è la pressione all'interno della tuta rispetto al vuoto dello spazio. Se volete approfondire scientificamente questo argomento, sempre attraverso l'indice alfabetico potete prendere visione di vuoto nello spazio e l'Apollo 11 e scoprire cosa significa veramente 10 alla meno 9 tor dello spazio. Elon ha appena affermato come sia immensa la differenza di pressione. Pensate solo ad una bottiglia di plastica vuota quando la portate dal mare o a soli mille metri e viceversa. Differenza di pressione? Da un'atmosfera a 0,89%. Un'inezia. Andiamo avanti fino a 13,26. Un'altra pietra a miliari importante è avere una tuta dove stare nel vuoto dello spazio come non avere nulla, essere semplicemente là fuori. È difficile da credere, è veramente difficile concepire l'idea del niente. Tecnicamente è come se ci fosse un piccolo numero di particelle per metro cubo, ma è dannatamente vicino al nulla. Se perdi troppa aria, troppo ossigeno, non c'è nessun posto da cui prendere ossigeno, quindi come in aereo. Anche ad alta quota deve aumentare con le pompe di pressurizzazione e ottenere più atmosfera, perché se nell'atmosfera una perdita di ossigeno nel Dragon è troppo importante, non c'è nessun posto dove prendere l'ossigeno morirai. Quindi i requisiti affinché sia tutto perfetto sono assurdi. Tutto deve essere assolutamente perfetto per funzionare. Noi, sai, ci evolviamo per vivere nello spazio, ovviamente. È dura, ma questa sarà veramente un'altra grande pietra miliare, essere in grado di avere qualcuno che è flutto alla fuori, nel vuoto dello spazio e che torna dentro. E vogliamo veramente avere una tuta spaziale per passeggiare, perché se sei sulla Luna, vuoi poter camminare in giro per la Luna, camminare su Marte. Quindi avere un'alta mobilità della tuta spaziale in realtà non è un costo a folle e idealmente puoi passeggiare comodamente. È un affare, in realtà è una cosa importante da sviluppare, da produrre in grande numero. Mi fermo qui. Elon che cerca di spiegare il bisogno, la certezza, la sicurezza di avere una tuta, anzi molte tute per passeggiare nel vuoto dello spazio. Sogna ragazzo, sogna. Siamo nel 2024 e sono passati 59 anni dalla prima passeggiata spaziale del cosmonautica sovietico Alexei Leonov e ancora non siamo in grado di avere una tuta spaziale per vivere nel vuoto. Questa era la Fiat 1500 del 1965. Questa è la Fiat 1 del 2024. Questo è un trenino elettrico del 1965 e questo il treno ad idrogeno del 2024. Questo è un televisore del 1965 e questo è il nuovo televisore del 2024. Aprite gli occhi tesorini e scoprite la verità, perché la verità vi toglie le paure e vi rende liberi, libere. Vi ricordo che dal 23 dicembre dello scorso anno il primo canale Dino Tinelli ha cambiato veste e nome rinnovandosi in Canal 104 Plus. Il secondo canale YouTube è sempre e rimane sempre con lo stesso nome, Dino Tinelli. Per le vostre ricerche fate uso del punto di riferimento indice alfabetico dal sito web www.tinelli.eu, perché oltre ad essere costantemente aggiornato, all'inizio della pagina suggerisco vecchi video che hanno sempre tematiche interessanti e altri video che per ovvia ragioni delle linee guida del regime non si possono pubblicare sui due canali che ho appena citato. Il libro del risveglio è sempre in pronta consegna e vi invito a giocare a chi cerca trova nella home di www.tinelli.eu. Se cercate riuscite a scaricare la copia omaggio in bassa risoluzione. Cerca cerca trova trova. Collaboro sempre con l'esclusivo Canal 104 Plus Telegram, dove vi invito a prendere visione delle tematiche decisamente importanti e, ma solo se vi va, è gradito anche il semplice valore di una buona tazzina di caffè. Grazie 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 Grazie